Bella ragazzi, qua la Mirae Sniper e adesso farò un video su veterano dominio Live, non contro il computer Come fanno tutti i miei amici all'incirca Ho appena fatto l'MP7 d'oro Secondo prestigio, livello max Però se sprungo non si sta assito Ecco, guarda Ah, votiamo Mi metto come se... Allora, mettiamo Cazzarola V-SAT U-A-V Contrattacco No, ma che merda Dragonfire Ragazzi, tra un po' farò un video Dove comprerò una specie di scatolone E dentro troverò un Dragonfire Non so come descrivervelo Una specie di Dragonfire telecomandato E adesso c'è il mio perfettissimo e perfetto MP7 d'oro Overpower Qua Però praticamente Ma va Ma chi è sto che è Scommetto che è un compagno di squadra Meno uno Già iniziamo bene In questa partita ho messo dominio Per approfittare che la partita dura un po' di più Ma il mio scopo è fare Come al solito i risultati più Positivi U-A-V pronto Subito senza morire No, ma è questo Vabbè, adesso un camper Si può tollerare Uno Non di più Ah, ma era compagno Sto bastardo C'era un compagno che mi uccide Stava là Ma si rendono conto Ma Spariamo a cazzo Eh, vabbè Hai visto che sparare così a cazzo fa bene No, 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 no Il Storm Eh, lo sapevo Io ci dovevo andare sicuro Poi tanto se Mi ha beccato Un amico suolo Beh, peggio per lui Ragazzi, volevo dire che Non so quando Ma mi sto mettendo D'accordo con L'altro membro Del team Per Poter Diciamo, dare degli episodi Diciamo, dare degli episodi Ehm, così Per Call of Duty Black Ops 2 Poi forse metterò anche Crysis O altri giochi Appena Mi capita di comprarlo Pure Far Cry, no Però il problema di Crysis È che non metterò il 3 Ma metterò solo Il 2 Perché non ho Cioè Non Io posseggo Io ho soltanto Il 2 Però mi dicono che Cambia soltanto Che c'è l'arco Poi non so Se per favore potete Descrivermi Le differenze Tra Crysis 2 e 3 Ecco Sackus Che entra nel gruppo Bella Spacca tutto Che bravo ragazzo Piscara Piscarella Dicami Ah sì Chi è oh Chi è Ma vava Ci stanno i compagni Che prima ti fanno Prendere Un cancro Dallo spavento Poi ti arriva Un cecchino Da dietro Oh Uscisione Beh Anderson Oh ma che c'è Beh C'è C'è Mamma mia Ho qua Non voglio ammazzare uno Se lo trovo qua dentro Ma Beh Beh vai a morire Ammazzato Con il mio coltello Super bello Eh lo sapevo Mamma mia Che rinculo Infatti No c'è Migrazione Ho sti in corso No Non ci credo Ecco Dai dai su Che l'ammazzo Adesso In prisa Che riesco Beh certo Questo me Me la teneva mirata Ci scommetto Tutte le orificerie Del mondo L'ombelico Del mondo Che cazzo Vabbè Fortunatamente C'è un secondo round Da chi Vabbè Vabbè 16-10 Sto facendo Schifo Scusate Sposto Un po' C'è il terremoto Qua Terremoto Terremoto Tomintio Veterano Il domizio Veterano Le Turtelbisch Dei Turtelen Ma vabbè La macchina è mortale Bastante Si facessi Un besher Ma chi è che sono Al citofono E lui Io sto sotto la doccia Non gli invo Ah Finalmente Al telefono Telefono Iscito Fono Ugualmente Bastard Bello Ma chi vuoi far Ora mi riprendo Boh Non lo so Qua Sto a 20-14 Mamma mia Ammazzere Tutti qua Nucleare Di qua Nucleare Di là Mamma mia Mamma mia Come ho fatto A non uccidere Il mio compagno Mamma mia Mamma mia Bisogna Ebbè Certo ma da dove ma beh guarda adesso mi arrabbio cioè che più stai attento a non farti beccare più ti becca ma va c'è i camper qua mamma mia ma non capisco come porco il lama oh oh ma va ma porco il lama veramente ma non ci riesco questa cosa ma 27 27 ero partito subito 5 uccisioni mamma mia ragazzi non c'è sta partita fa schifo piena di camper ma dappertutto io non so come però spero che il video vi sia piaciuto e bella ragazzi grazie a tutti grazie as